La nudità non è così superata come credeva la direzione di Playboy. Con il numero di marzo-aprile che sfoggia il titolo Naked is Normal, la nudità è normale, la rivista torna sui propri passi. Oltre un anno fa, la nudità era stata abbandonata con l'obiettivo di ampliare il pubblico del gruppo. È stato un errore, adesso ritroviamo la nostra identità, ha affermato Cooper Hefner, figlio del fondatore Hugh.